Dieci candeline è importante per una rassegna che parte da Cortale, che ormai appartiene a tutto il territorio della provincia, ma soprattutto grazie anche alla direzione artistica dell'Avvocato Colloca, che si impegna insieme al Comune, ma a tutti i partner, affinché questa rassegna possa crescere di anno in anno. Quest'anno è una firma molto importante, la presenza di Billy Cobb, ma che già nel mio caso ho avuto il piacere e il privilegio di portare due volte nella città di Catanzaro. Quando ero assessore alla cultura e subito dopo nella prima rassegna di settembre al parco, io credo uno dei più grandi batteristi che sapranno entusiasmare, ma soprattutto per quella qualità che lega ovviamente un musicista di grande importanza ad una rassegna che vedrà anche la possibilità attraverso delle interazioni, per esempio con Roccella Jazz, di una serata particolare a carico proprio della stessa associazione, ma nello stesso tempo anche due giornate dedicate a tutti i musicisti di Cortale che in questi anni sono state parte integrante per il miglioramento di questo importante festival. La provincia di Catanzaro è lieta ed è onorata che oggi ci sia qui questa conferenza stampa, sarà partner, come l'ho stato negli anni precedenti, nella consapevolezza che musica e cultura rappresentano, devo dire, per tutti quanti quel momento non soltanto di svago, ma in questo caso anche di altissimo livello culturale rispetto ai musicisti che avremo il piacere di ascoltare. Innanzitutto quella di celebrare un traguardo importante, la decima edizione, si è pensato a un artista che fosse largamente rappresentativo e che potesse convogliare a Cortale nella serata conclusiva del festival del 13 agosto il mondo dei gezzofili calabresi e non solo, anche quelli che si troveranno in Calabria in vacanza in quel periodo, e si è pensato al batterista più importante e più influente della scena jazz fusion mondiale che corrisponde al nome di Billy Cobham, che si esibirà in quintetto il 13 agosto, lo ricordiamo, ingresso gratuito in piazza Cefali a Cortale. Ma non solo, poi nelle serate dell'11 e del 12 avremo invece il patrimonio musicale cortalese che si esibirà con ben sei concerti, con sei formazioni, i cui leader e i componenti sono per gran parte nativi di Cortale. Inoltre, quest'anno si rafforza il gemellaggio, il protocollo di intesa sottoscritto lo scorso anno con Rocella Jazz, il secondo festival più importante in Italia dopo Umbria Jazz. e nella serata del 13 vi sarà un omaggio da parte di Rocella Jazz con un concerto offerto da loro che però annunceremo nella prossima settimana perché stiamo concretizzando sul nome.